Buongiorno, rimanendo in tema di solari, abbiamo persone che hanno la pelle veramente molto sensibile. Ceremol, che è la linea che abbiamo più presente da noi in farmacia per questa problematica, ha aggiunto una fantastica linea solari. Solari dove abbiamo chiaramente un 50, perché chi ha la pelle sensibile non si può andare al di sotto di una protezione così alta, per quanto riguarda il viso, per quanto riguarda il corpo, si può andare anche a una frenza. Sono totalmente senza profumazione, quindi zero problemi di energia, zero risposte irritative, parliamo di latte corpo, latte corpo spray, fluido calmante riparatore, che quindi laddove una pelle già tendenzialmente si può diciamo arrivare ad un'allergia con una situazione normale, dopo il sole ci deve essere per forza qualcosa di venitivo maggiormente potenziato rispetto a un dopusone qualsiasi. E quest'anno hanno aggiunto anche un prodotto preparatorio, cioè il famoso discorso in e out, ovvero andiamo a prendere un integratore prima, durante e dopo. Tutto questo per far sì che l'organismo si prepari dall'interno a produrre quelle sostanze che evitano poi di far volere l'idea, ma di fare in modo che il primo sole anziché un piacere diventi un fastidio. Grazie.